E' tutto pronto per accogliere gli esperti che parteciperanno al 22esimo premio Biol, concorso internazionale per i migliori extravergini ecocompatibili, in calendario quest'anno a Ostuni, nel Brindisino, dal 18 al 20 marzo. Una tre giorni sull'olio biologico, con le sue eccellenze da tutto il mondo, in una cornice ricca di eventi collaterali, tra incontri, laboratori, mostre, gastronomie, itinerari. Epicentro dell'evento, organizzato dal CB e promosso dall'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia e dalla Camera di Commercio di Bari, sarà l'ex macello comunale, dove sorgerà la cittadella del Biol. Qui la giuria internazionale, formata da 30 esperti di tutto il mondo, valuterà gli oltre 350 oli in concorso, da 15 paesi esteri, oltre naturalmente l'Italia, presente con una sessantina di pugliesi in gara. Tra i riconoscimenti previsti, il premio Biol al migliore olio dell'annata, il Biol Pack, assegnato da una specifica giuria al miglior packaging, ossia il confessionamento di prodotto con il miglior design, e l'etichettatura più chiara, più vari con i riconoscimenti territoriali e tematici, come il Biol Kids, riservato ai giovani palati delle scuole elementari. Il premio Biol è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, IFOAM e Agribio Mediterraneo.